Intanto Custonaci è terra mariana e cività samarie e quindi l'evento è impernato ovviamente su quelli che sono i valori anche religiosi che esprime il territorio attorno alla Madonna di Custonaci che è valore religioso ma per noi custonacese dell'agricino è anche il valore culturale attorno al quale è cresciuta la comunità e si è addirittura sviluppato urbanisticamente pure la città. E quindi celebriamo questo momento importante guardando i popoli del Mediterraneo, vuole essere l'occasione per apprendere e conoscere meglio quelle che sono le peculiarità anche religiose dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo guardando alle diverse religioni monoteistiche e la Madonna aiuta perché è venerata da tutte le religioni compreso i musulmani e quindi è un elemento sicuramente di unione. Regina Pacis 2018 è un'edizione particolare perché tra le tante iniziative che già tradizionalmente negli scorsi anni si sono portate avanti quest'anno viene ripreso dopo 50 anni il premio Riviera de Marmi, sarà una serata di gala importante dove verranno premiate eccellenze siciliane nel mondo della cultura intercalate la serata appunto tra momenti di poesie, di musica, insomma una serata che certamente ci aspettiamo possa dare un segnale importante per la valorizzazione della nostra città. Il venerdì pomeriggio ci sarà la svelatura di un'ulteriore stazione marmoria realizzata sempre dallo scultore Giuseppe Cortese pian piano stiamo ultimando appunto la via Crucis e ci sarà anche presente al momento l'assessore ai beni culturali il professore Sebastiano Tusa poi ci sposteremo dopo un momento di concerto proprio sul parco del Cerriolo quindi anche un luogo particolarmente suggestivo soprattutto in quel periodo della giornata cioè al tramonto ci sposteremo appunto al centro storico per la serata di gala Grazie a tutti